esaminiamo brevemente la declinazione del pronome determinativo is ea id che il latino usa come pronome di terza persona non riflessivo nominativo is egli ea ella id esso genitivo complemento di specificazione notiamo che ha la stessa forma per i tre generi maschile femminile neutro eius di lui eius di lei eius di esso di ciò dativo complemento di termine ei a lui ei a lei ei a esso a ciò anche qui forma identica per i tre generi accusativo complemento oggetto eum lui eam lei id esso ciò ablativo corrisponde a vari complementi indiretti qui per comodità utilizziamo il complemento di compagnia eo con lui ea con lei eo con esso con ciò passiamo al plurale nominativo plurale maschile ii essi ee femminile esse ea quelle cose genitivo complemento di specificazione eorum di loro ea rum di loro eorum di dativo is oppure eis a loro is oppure eis a loro is oppure eis a loro tre forme identiche accusativo complemento oggetto eus eos loro e as loro ea quelle cose ablativo abbiamo le stesse forme is 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 oppure eis 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 per indicare rispettivamente il maschile con loro il femminile con loro e il neutro con loro neutro decliniamo ora il il illud il pronome aggettivo dimostrativo che il latino può utilizzare anche se molto raramente come pronome personale di terza persona ille quello ma anche egli illa quella ma anche ella illud esso ma anche quello ma anche esso nominativo genitivo illius di quello illius di quella illius di quello dativo illi a quello a quella a quello accusativo illum quello illa quella illud quello ablativo con quello con quella con quello ovviamente a quello possiamo sostituire il pronome di terza persona in italiano quindi le diverse forme la stessa cosa vale per il plurale nominativo illi quelli ma anche essi illi quelle illa quelle cose il loro ma di quelli di quelli il loro di quelle cose dativo illis a quelli illis a quelle illis a quelle cose accusativo illos quelli illas quelle illa quelle cose ablativo tre forme identiche con quelli con quelle con quelle cose sempre illis e e e